Vi voglio presentare un'app straordinaria per costruire ebook. Si chiama Book Creator. L'applicazione Book Creator è disponibile per iPhone e iPad. C'è una versione free per realizzare il primo ebook e una versione a pagamento completa. L'app tuttavia è disponibile anche su browser Chrome. Basta avere un account Google. Si possono creare libri, album fotografici, manuali, storytelling, fumetti, digital portfolios e giornali. Si possono aggiungere immagini, testi, suoni, adesivi, stili, layout a fumetti. Permette la modifica dei colori e degli sfondi. Per gli usi didattici la vedo, questa applicazione, molto utile in didattica EAS, episodi di apprendimento situati. Esempio, nel momento preparatorio di un EAS è di grande utilità per presentazioni e tutorial che il docente predispone per gli studenti. Nel momento operatorio può essere scelta dagli studenti come artefatto del lavoro di gruppo per riassumere le attività, per presentare e pubblicare i prodotti. Nel momento ristrutturativo può rappresentare lo storytelling delle attività della classe, il giornale delle attività svolte, la lesson a posteriori. In questo tutorial vediamo l'applicazione via Chrome, quindi ci colleghiamo a bookcreator.com, scorriamo la pagina fino ad arrivare a bookcreator for Chrome. Vedete che è disponibile comunque il download dell'app, dall'app store. Ecco, mi chiederà se voglio, se sono uno studente o un docente. I am a teacher. Mi chiede di registrarmi, sign in, e lo faccio, nel mio caso, con Google. Scelgo il mio account di Google ed ecco che sono entrata nell'interfaccia dell'applicazione. Sono presenti gli e-book che ho già creato. Ora posso andare con il più new book ad aprire un nuovo e-book. Ho la possibilità di scegliere tra tre layout e farlo come comics. Scelgo di farlo come comics. Ora posso aggiungere una cover e con il più, questo strumento del più, posso aggiungere dei panels. Aggiungo questo panels, come vedete. E nei panel posso aggiungere una media oppure posso registrare qualcosa con la telecamera. Aggiungo un media, scelgo, mi dà la possibilità di scegliere dal web con Google oppure dal mio computer. Esempio, voglio fare una presentazione di Brescia. Scelgo Brescia, un'immagine, cerco un'immagine di Brescia. Seleziono l'immagine, seleziono l'immagine, select e adesso dovrebbe caricarmi, mi sta caricando l'immagine che ho scelto. E tra poco questa immagine comparirà. Ecco, che è comparsa l'immagine che posso, se non sono soddisfatto, cancellare. Sotto posso aggiungere un altro media. Esempio, faccio la stessa cosa, scelgo Brescia, un'altra immagine di Brescia. Tra quelle disponibili scelgo questa, select e pianino me la carica, ok, le due immagini. Posso poi, sempre andando nella più, aggiungere del testo, ad esempio, un title, la mia città. Dan, ecco, correggo il testo facilmente, vedete se ho dimenticato qualcosa o ho fatto male. La mia città, la mia città, dan, ok. E posso sempre, con il più, esempio, aggiungere anche degli stickers. Vedete, io poi posso posizionare come voglio. Posso anche, poi, andando in questo bottone, formatare il testo, cambiare il colore. Ad esempio, lo voglio fare giallo. Vedete che l'ho fatto giallo. Posso, sempre andando in informazioni, dare un colore di sfondo alla mia pagina. Come vedete, ok. Ho costruito, quindi, la cover. Poi, posso aggiungere un'altra pagina andando con la freccetta e in questa pagina posso inserire altri contenuti alla stessa maniera. Una volta che ho confezionato il mio ebook, lo posso, poi, vabbè, ho la pagina bianca, come vedete, eccetera, lo posso sfogliare e lo posso condividere, quindi pubblicare online e fare il download come ebook oppure stampare. Ok, vado in edit, vado in my page e vedo le pagine che ho creato. Ritorno indietro e questo è tutto per la costruzione di un ebook a cui posso aggiungere dei testi e altre immagini e anche una delle registrazioni. Se io, infatti, alla pagina 2 volessi, potrei aggiungere, come vedete, in media delle registrazioni audio e video, oppure delle importare anche, vedete, altre immagini. Quindi, questo è tutto. Solo di nuovo nell'interfaccia del mio book creator, con tutti i libri che ho creato, l'ultimo che ho creato era quello sulla mia città, e sono qui per dirvi un'altra funzionalità interessante che è quella della costruzione di una library. Ecco, la library, posso mettere il nome della library, ad esempio, prova, metto il mio nome, l'antichi, della library, permetto la ricerca delle immagini con Google e che gli studenti possano leggere questo ebook. Posso invitare subito le persone a partecipare alla library o invitarle dopo. La library permette di, quindi, far partecipare le persone al proprio ebook, però con la library è possibile costruire soltanto 40 libri. Quindi, invite to library, con l'invite to library mi viene generato un codice e a questo codice lo posso poi inviare agli studenti o agli altri docenti per poter partecipare alla costruzione dell'ebook. Quindi, è un modo sociale questo per condividere gli ebook. Buonasera.